A Mediocolella è il rettore della Università Gendarino II di Napoli, l'ultima università nata a Napoli. Tengo a precisare che non è una delle tante università online, è la prima università offline italiana, quindi di presenza. Però in realtà nella vita precedente non facevo tutt'altro, facevo il ricercatore senior, un centro di ricerca che era promosso proprio dalla Federico II, un centro di ricerca di telecomunicazione, guarda caso, poi alla fine mi sono ritrovato a cambiare completamente la mia vita dopo il successo del primo libro, ma è una storia molto lunga e noiosa. Tutto iniziato per gioco, per caso, era un interesse, una passione, quindi ho cominciato a raccogliere, perché lì ci sta sempre la deviazione informatica, comincio a trovare il materiale, a raccogliere, a metterlo tutto quanto da parte e quindi ho cominciato a sistematizzare le informazioni, è diventato un archivio sconfinato, poi ho cominciato a metterlo in ordine e poi ho cominciato a restituire alla città tutte queste informazioni, a fare un'operazione di divulgazione che però è cominciata così, per gioco, per caso, per caso. Una situazione come questa, un giornalista, lo devo dire tanto, non credo che ci sia un problema, di Napoli Today, un portale napoletano, Massimo Romano, un giorno mi disse, vogliamo fare un video sulla sfogliatella? Dissi, no, ma io sono 60 anni, che faccio con questi video? Cosa per ragazzi? Passai l'angelo e disse amen in quel momento, perché da l'ora in poi praticamente campo solamente di video. Non avrei mai creduto che questi argomenti avrebbero interessato delle fasce così ampie di popolazione. Sì, diciamo, mediamente il mio target è quello di Facebook, quindi è il boomers, come si dice, millennia? No, boomers, quello lì, diciamo, il cinquantenne, sessantenne di oggi. Ma scopro sempre di più, giovani, giovanissimi, per fasce d'età, per classi sociali, c'è un interesse diffusissimo a sostenere questo orgoglio della cultura partenopea. Forse è anche complice questo momento in cui Napoli è diventato, come devo dire, quasi un brand, no? È la destinazione preferita di tutta l'Europa. Insomma, si sono messe insieme, secondo me, una serie di alchimie che hanno creato un interesse diffusissimo per le tematiche della napoletanità. Che io credevo, invece, capito, un argomento di nicchia. Invece che sta nicchia è un nicchione, insomma, è bello grosso. Poi alla fine Napoli è una città, insomma, fra di noi ce lo possiamo dire, perché voi sapete, o coro vorisce, ma non vuoi sentire, non è una città semplice, non è una città completamente normale. Basti dire che è stata fondata due volte, eh, cominciamo da questo. Prima la chiamarono Partenope, che è questa colonia di Gresci, che venne da Cuma, insomma, arrivò sull'isoletta di Megale, e là per tradizione c'era la tomba della sirena Partenope. Allora la città diventò, in omaggio alla sirena, seppellita in quel posto, assunse il nome, questo primo nucleo iniziativo, di Partenope. Poi cosa non gli è troppo buono, chissà se avessero succedere, si ruppero le giarratelle. Probabilmente la colonia aumentò di dimensioni e lì su a Pizzo Falcone, al Monte di Dio, gli spazi non erano così ampi, fu deciso di rifondare la città da un'altra parte. O forse arrivò un'altra colonia, non vuoi più camulist la precedente, che li cacciò. E allora, alla fine, loro rifondarono, quindi, una nuova città, una Neapolis, e nacque appunto in una zona straordinaria, quella che oggi va, diciamo, dalla rupe di Piazza Cavour, e degrada dolcemente verso il mare, e nacque la nuova città. Quindi alla fine noi siamo parte napoletani e partenopei, come diceva, insomma, questo era un vecchio comico, diceva una battuta del genere, sì, in realtà siamo partenopei, perché siamo nati partenopei e siamo diventati napoletani. Beh, in fondo, in 3.000 anni di storia, Napoli è rinata tantissime volte, ha avuto dominazioni una dopo l'altra che si sono susseguite sul regno di Napoli, quindi immaginate, e da ognuno di questi poi siamo stati bravi, perché siamo stati capaci di prendere le cose migliori. Abbiamo preso il meglio in termini di gastronomia, di arte, di lingua, di cultura, per cui siamo diventati veramente bravissimi prendendo un murzodielo saporito di ognuno di essi. Nasciamo greci, poi diventiamo ratini, e poi, naturalmente, c'è il periodo del Ducato, e poi ci sono gli otto re, i nominatori dell'ultimo millennio. Siamo stati normanni, svevi, angiovini, araconesi, francesi, spagnoli, pure Savoia, insomma, siamo stati invasi da tutte le popolazioni del mondo. Non ricordo quale comico diceva che siamo un popolo pacifico, abbiamo reagito sempre poco, abbiamo abbattuto sempre poco. Guarda, in fondo, nei 3.000 anni di storia abbiamo avuto solo un brevissimo periodo in cui siamo stati autonomi, la prima Repubblica Napoletana di Massanello, 1641, ma quella quanto durò? 16 giorni, tutte cose. Poi ci sono stata la seconda Repubblica Napoletana, quella del 1799, quella di Eleonora Pimentel Fonseca, quella degli intellettuali napoletani, ma pure quelle bevite a breve, due mesi e mezzo, tre mesi e mezzo, e alla fine tutto finì. E poi? E poi le quattro giornate di Napoli. Beh, in tutto dicevamo combattuto 3-4 mesi, in 3.000 anni di storia, siamo sempre stati pacifici. Il mio quartiere preferito è, senz'altro, sarà banale, lo so, ma è San Lorenzo Vicaria, il centro antico della città. Io sono nato a San Giovanni a Graunara, San Giovanni a Carbonara, in casa, e quella stanza, quella casa è ancora la casa di mia madre. Quindi sono legatissimo a quei luoghi, ho giocato da bambino nella chiesa San Giovanni a Carbonara, e quindi, come devo dire, ho respirato quell'aria a metà un po' fra quella che era la Montmartre, la napoletana, e Cesare Rossarol, quella che era il centro antico, più antico della città, quando questi luoghi erano assolutamente privi di qualunque interesse turistico, e oggi invece sono diventate delle destinazioni, delle mete straordinarie, tutti dissertano su Cardini e su Decumani, e non c'è più un posto di vera pace nel centro storico. Questo non vuol dire che, come devo dire, rimpianga il periodo in cui Napoli, insomma, era una città difficile all'epoca. Oggi sicuramente tutto questo ha fatto bene, con delle distorsioni che si è portate appresso, naturalmente, però il mio quartiere preferito è sicuramente il centro antico, via Tribunali. Io andavo a scuola all'Armando Diaz, ho fatto la ragioneria, ahimè, e quindi camminavo ogni mattina per tanti anni da via Carbonara, tutta via Tribunali, quindi la pizzetta di Matteo, la pizzetta fritta, ha contribuito a formare le cellule del mio corpo, poi dopodiché si andava avanti, c'era il cornetto di Mazzaro, ora purtroppo non ci sta più, quando ci stava Esterina, Sorbillo, a volte ci creavamo l'alternativa, quella era la mia zona, quando si faceva filo in a scuola si andavano ai matinee, i matinee, i cinema aperti la mattina, oggi è folle pensare che un cinema, qua a stento ne sono sopravvistuti pochi, figuriamoci se fossero aperti la mattina, è quello il mio quartiere. Un eccezionale e veloce sviluppo turistico non poteva che creare qualche distorsione, qualche guasto, indubbiamente oggi se mia figlia vuole sposarsi e cercare una casa non la troverà mai, perché chiunque oggi ha una casa ci fa il B&B, B&B è diventata la parola d'ordine, la parola d'ordine di questa città, tutti insomma stanno traendo in qualche modo vantaggio da questo enorme flusso turistico, questo ha fatto sì, poi che tutta una serie di attività che prima trovavano la loro ragione di essere sull'esistenza di un popolo napoletano, che abitava il centro storico, oggi il centro si sta svuotando, svuotare vuol dire che tutta una serie di attività anche artigianali, ecco faccio l'esempio del riparatore di scarpe, della lavanderia, insomma di quegli artigiani che in qualche modo avevano bisogno di un mercato locale per sopravvivere, il piccolo panettiere o frasellare, questi purtroppo non hanno più ragione di essere e quindi tutte quelle attività che paradossalmente hanno attirato tanto turismo, perché le vere attività napoletane, oggi stanno sparendo, perché non c'è più un popolo napoletano che in qualche modo sostiene e mantiene, per cui troviamo palazzi in cui su 12 appartamenti leggevano, ce ne sono 11 che sono B&B, i quartieri spagnoli diciamo la verità, ieri ci sono passato, c'era un flusso di traffico pedonale, non si riusciva più a camminare, non dico io rimpiango i momenti in cui 30 anni fa si aveva addirittura paura di entrare quasi nei quartieri spagnoli, però come devo dire, oggi mi sembra quasi una Disneyland è diventata, però alla fine è complicato dare un giudizio sintetico, ci sono aspetti positivi, aspetti negativi, il tutto andrebbe in qualche modo controllato, ma non è semplice. Io sono vissuto a Napoli dal momento della mia nascita, sono nato in quella casa di Via Carbonara, e ho vissuto lì, ora sono che casa in coppola, ma perché? C'è l'attrazione del quartiere alto, in realtà adoro il centro storico, mia figlia è andata nel centro storico, cosa significa essere napoletani? Guarda, è complicato un giudizio del genere, perché la napoletanità è un insieme, come devo dire, questo modo di vivere, di pensare, di questo popolo che ha delle caratteristiche precise. Da un lato, si, te ne muove suvi, sta sempre là a dire, domani qua potrebbe essere tutto finito, e quindi da noi si ripete, tutto lassato è perduta, ma fa mo'. Avete mai fatto caso che in lingua napoletana a stento siamo il tempo futuro? Quasi mai. Domani andrò dal barbiere, rimane vacca dal barbiere. Noi siamo sempre il tempo presente, quasi che tutte queste bibliche calamità del nostro passato ci convincono a realizzare le cose velocemente. Ecco, questo è un po' vivere a Napoli, una città che ha tanti problemi, però tanti problemi, non so chi lo disse, questo vuol dire tanti problemi da risolvere, e quindi quanto è forte, quanto è stimolante, soprattutto per chi, come devo dire, è orgoglioso di vivere, questo primato culturale che è la città di Napoli, finalmente ha mostrato a tutto il mondo. Tra le varie eccellenze di questa etnia, naturalmente sì, d'accordo, c'è la musica napoletana, il cinema, il teatro, nel 1900 il teatro italiano, è stato teatro napoletano, e poi che ne so, la gastronomia straordinaria, e la lingua, la lingua, la lingua, ogni tanto continuamente, ma non è lingua, è dialetto, è idioma, è vernacolo, insomma, alla fine, alla fine qual è la distinzione, in astratto fra lingua e dialetto? Una lingua è un dialetto che ce l'ha fatta a diventare lingua, quindi voglio dire, ce la potevamo fare noi, ce l'ha fatta il Toscano, ma sostanzialmente, se noi avessimo un po' investito in un'accademia della vrenna, ecco, piuttosto che della crusca, forse saremmo stati più intelligenti, perché il napoletano è una lingua straordinaria, piena di verboli verbali, piena di espressioni intraducibili, srotte i giardelli, che le hanno mamozi, che le hanno ricuttuare, oppure di parole intraducibili, come fai a tradurre spaparanzato, indossucuso, ingannaruto, superchiuso, ammappuciato, forse ammappuciato lo traduci pure, Sgualcito, ma c'è una condizione successiva dell'ammappuciato, sai qual è? Sgualariato, mi spiega come fai a tradurre sgualariato. Sgualariato,